Dopo questo inizio di stagione un po' così, un po' turbolento anche per le condizioni meteo che non ci hanno aiutato, abbiamo pensato di incentivare, dopo le dichiarazioni anche di Rai News per la scarsa affluenza alle isole, abbiamo pensato di incentivare con una promozione con partenza da Vieste per questo fine settimana e anche altri fine settimana di 29 euro per gli adulti andati e ritorno e 19 euro per i ridotti, insomma, incentivare un po' il turismo anche familiare del weekend, anche del circondariato, insomma, perché come si sa il Gargano nel weekend ci sono arrivi, ci sono partenze, quindi chi parte, chi arriva, non hanno il tempo materiale per fare l'escursione. Incentivare anche perché alle isole, alle Tremiti, in questo fantastico arcipelago, quest'area protetta, c'è il Festival di Posidonia, il Festival di Posidonia è famoso anche in tutto il mondo, viene fatto in altre località del mondo con eventi straordinari e altre caratteristiche, in modo tale che il cliente possa ammirare a 360 gradi il fantastico mondo, il fantastico arcipelago delle isole Tremiti. Navitremiti, navitremiti.com, noi siamo pronti, insomma, a qualsiasi iniziativa.